La prima stagione come capitano era speciale per me, ovvio cosa nuova, però devo anche dire che avevo i compagni davvero straordinari. Abbiamo avuto un gruppo bellissimo e si vedeva già all'inizio che il gruppo c'era, che abbiamo fatto già a Corvara dentro, abbiamo fatto tantissime cose fuori ghiaccio anche, che sicuramente aiuta a fare il gruppo. Da lì si è partito sì, sicuramente era tanta responsabilità di più, però credo che il primo anno è andato quasi benissimo. Vom Spiel 7 ho non ho la più ricordato, ma è stata la atmosfera. È stato molto bello, come la stagione, come la stagione, come la stagione, come la stagione fuori, come la stagione, come la stagione, come la stagione, come la stagione, come la stagione. Ma la stagione, come la stagione, come la stagione, come la stagione? Sì, prima stagione. come con Almo e Frigo. Abbiamo fatto un bel gruppo, abbiamo ci aiutato, abbiamo parlato insieme tanto, ci conosciamo da mai tanti anni e sappiamo che abbiamo la fiducia di ognuno e anche di se stesso di fare gruppo, di fare decisioni e secondo me abbiamo fatto un buon lavoro in tre anche. Questo è già 10 anni fa, io ero anche i ragazzi. In Reistil ho lavorato e Dieter è arrivato all'inizio, e mi ha detto che avevano parlato, che avevano parlato, che avevano parlato di un pozzo, ma quando avevano parlato, avevano parlato, avevano parlato, avevano parlato un po' di 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 più per oggi, per adesso, e niente insieme, e poi viveremo più grandi interventi, e anche un po' di un po' di un po' di un po' di più. Beh, in 10 anni ho cambiato tantissimo un livello sul ghiaccio, diciamo che ho maturato tantissimo perché ho visto tanti giocatori venire, ho imparato tanto dai capitani, dai giocatori vari, quello anche fuori ghiaccio tantissimo, ho visto come si fa in spolatoio, ho imparato di avere la mentalità di vincere, potrei dire, e anche fuori ghiaccio, prepararmi meglio che non l'ho fatto magari quando ero più giovane, perché non sapevo come si fa e negli ultimi anni sicuramente abbiamo fatto un passo anche avanti la società con aiutarci e prepararci meglio e quello sicuramente mi ha aiutato personalmente anche e come persona potrei dire sono diventato negli ultimi anni un po' più calmo, dentro è fuori ghiaccio, si vedo che anche io divento un po' più vecchio. Io credo che il l'ottore dei nostri giorni è stato molto positivi, abbiamo tutto in cui abbiamo tutto in cui abbiamo tutto in cui abbiamo tutto in cui abbiamo è stato proprio professionale e ciò che è stato molto divertente come spielo. E' sicuramente molto utile a crescere. C'è una possibilità per i ragazzi, per i ragazzi, per i ragazzi, per i ragazzi, per i ragazzi. E' uno dei miei migliori di Italia, è sicuramente possibile. Il suo gruppo di Frenz ha in cui appena fai mai fai. In un'inizio in un'inizio in il prima città di il Milano di Abel è un po' difficile, ma non aveva molta esperienza, ma è crescita già per anni. In un'inizio spielo'n, in un'inizio in un'inizio, sono tre volte più ersteri in questa sezione. Sì, credo che il giro in un giro, ancora un meistero. In questo modo, credo che in prossimi anni, sarà il mio lavoro. E quindi, vediamo, come si fa, cosa è l'ultima cosa è stata fatto. Gianni Freira, Porte Chiuse. Un anno fa, è una mezza Porte Chiuse, un ridotto. e si deve anche dire che non abbiamo fatto la nostra giornata bene, non abbiamo chiuso come volevamo e per quello questo anno è veramente importantissimo per la società, anche per noi stessi ma anche per i tifosi di giocare un hockey come abbiamo giocato, di far voglia di venire allo stadio, di vedere, di fare anche voglia di giocare si deve anche dire, voglio venire in esploratorio così ogni giorno c'è una cosa bellissima, si vedeva anche dai tifosi che c'erano e per quello un'altra motivazione di più è di fare ancora il passo avanti perché c'è sempre aria in su ogni anno è una nuova sfida, ci sono nuovi ostacoli però sicuramente siamo pronti per quelli nella prossima Saison è sicuramente molto a fare, e in cui faremo solo con la Champions sono veramente spare, tolle giocatori e mi piacere a un paolo e c'è davvero molto mi freu a un po' di un po' di chi ha i anni e trovi di soli di erfittare in questo modo e nella scuola stiamo tutti da un po' di ero di più di ero di fuori e in una scuola di segnale, credo, è sempre una scuola di ero, in questo modo abbiamo ancora un gran Stamm, un po' di ero di ero di ero, ma ancora un po' di ero Ci sono un'altra Mannschaft, non è un'austellato, è tutto nello. Abbiamo iniziato anche per nulla, ma anche per nulla. Abbiamo iniziato un po' spielerini, una buona gruppe. Abbiamo iniziato da un'altra squadra. Abbiamo iniziato anche per l'inizio. Abbiamo iniziato da un'inizio. Abbiamo iniziato da, iniziato da, iniziato da. In me è un'impressione, come reagisce il tutto il clube. E quando sei in i Playoffs, tu guarda la sua vita e quello che hai fatto, tu guarda la sua vita. In Mainheim spiegare, in cui è stato un Traum, in una S&P erenna. Non c'è di la rifrazione, ma sicuramente di no. Il team è un po' di forza. Dopo perderla così, si vedeva anche, come ho già detto, che in questa stagione davvero la curva, ma tutto il pubblico c'era e così è davvero bellissimo venire allo stadio. Si vede che tutti gli è piaciuto e tutti mettono tutto sul ghiaccio. La curva, devo dire, è bellissima, come quest'anno era anche. Si vede che anche tanti giovani sono dentro, che quello mi farà davvero piacere, ma anche quelli che c'erano già sempre è una cosa che non ha prezzo. Ma un giorno speciale sempre, direi. Io sono sicuro uno di quei che gli piace di più giocare a quelli. Sempre bellissimo giocare contro. E abbiamo una sfida, ci siamo per il posto numero uno di Alto Adige e però anche contro i vecchi compagni e non vedo l'ora che inizia. Ma routine è, io non ho molto. Io ho la mia famiglia, vor all'altro, a mattaccio, e provo non troppo in spiace di pensare. E faccio un po' di spiace di spiare, credo, è un po' di spiare, è un po' di spiare. Sempre, secondo me sempre, perché all'inizio della stagione non sono tutti a livello ancora 100%. Sicuramente è difficile contro le squadre, ma non dico impossibile. Il vostro giusto, il vostro giusto in feria. Il primo giusto, credo, è stato in questa nonna. E io ho visto che il mio ragazzo è stato in un'altra volta, perché è stato molto bello. Sconfitto ha preso malissimo, infatti è ancora qua. Spogliatoio, sicuramente nei primi minuti non avevamo detto tanto. Ma poi ho detto solo grazie ai ragazzi che non avevo dato tutto, è quello che dal primo giorno ho chiesto da loro. E' una cosa che mi ha fatto davvero honore. Si vedeva tutti erano morti, ma morti, ma messa tutta. E' una cosa bellissima. Fino che il mio corpo va ancora, spero tantissimo. Ma vorrei finire qua la carriera, sì. E' una cosa che non aveva, però credo che non avevo mai fatto. E' una cosa che non avevo mai fatto, però credo che non avevo mai fatto. E' una cosa che si trovi è successo, però credo che non avevo mai fatto. ciao a tutti i tifosi spero che avete una bella estate e sudate come noi qua non vedo l'ora che qua dietro di me diventa un po più freddo si può iniziare a andare sul ghiaccio spero che vi vedo come l'anno scorso di nuovo qua tutti che è una stagione quasi perfetta e sappiamo che abbiamo ancora lavoro a fare vi aspetto tutti a presto